I gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione uniti contro i tagli del 30% ai servizi sociosanitari previsti nella finanziaria regionale. Politiche sociali che comprendono servizi in favore dei nuclei familiari, di anziani, disabili, minori, ragazze e madri, immigrati, ma anche azioni di contrasto alla povertà. È un taglio che francamente penalizza un settore importantissimo, che è quello appunto dei servizi sociali, e quindi noi siamo qui oggi in maniera trasversale a contestare questa decisione. Io mi auguro che il governo in queste ultime ore rifletta e che colga l'occasione per rimediare a questi tagli e dare invece un segnale importante ad un settore che ne ha assoluta necessità. Togliere proprio i più deboli, a partire dal mondo delle disabilità, è sicuramente una cosa inaccettabile. Nel corso di una conferenza stampa congiunta, promossa da Vincenzo Figuccia, vice capogruppo del partito dei siciliani MPA all'Ars, in contemporanea alla protesta davanti al Palazzo dei Normanni degli operatori sociosanitari, è stato presentato l'emendamento alla finanziaria per chiedere l'istituzione di un fondo per la disabilità. Un capitolo di spese in cui fare confluire una parte della dotazione del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali è la quota di cofinanziamento regionale. Se lei va a vedere tutti i capitoli, troveremo trasversalmente dei tagli di circa il 30%. Grazie a tutti.